Siamo con Mattias Procati, doppietta per lui quest'oggi contro il Cumiana Calcio. Come ti sei trovato in campo prima amichevole della stagione? Ci siamo trovati tutti bene oggi, il primo test. Dopo già quasi una settimana di lavoro le gambe erano pesanti, però penso che non sia andato male. Abbiamo fatto parecchi gol, quindi è stato quello l'importante oggi. La dirigenza, la squadra Provercelli in sé, ti fa tanto per te? Hanno fatto un bello sforzo per trattenerti a Vercelli. Che soddisfazione è stata quella di poter tornare e continuare a giocare con la Provercelli dopo i sei mesi che hai disputato nella scorsa stagione? Io sicuramente puntavo tanto sulla Provercelli, perché come finito il campionato speravo da una parte che la Provercelli mi riprendesse. Così è stato e sono felicissimo di essere qui. Adesso voglio dimostrare tutto qui. Ambizioni per la nuova stagione? Sicuramente fare tanti gol, giocare e portare un'altra salvezza.